Ciao a tutti, sono Alessandro Tiscione, sono docente e consulente di pasticceria. Ho conosciuto Emanuele Forcone tantissimi anni fa e ho imparato da lui veramente molto. Ho imparato a pianificare e organizzare tutto il mio lavoro, ho creato un mio stile successivamente, dopo tanta esperienza fatta durante i suoi corsi. Ho fatto corsi di minion, monoporzioni, torte, pasticceria artistica, sia cioccolato che zucchero, e in tutti questi corsi è riuscito a trasmettermi proprio l'arte della pasticceria e ho imparato veramente tantissimo. Ancora ad oggi utilizzo tante delle sue tecniche che mi ha trasmesso. Siamo conosciuti appunto tanti anni fa e oltre ad essere un grande professionista è una grande persona. Consiglio a tutti quanti di fare i suoi corsi, sia online che in presenza, perché veramente lui è un pasticcere completo a 360 gradi e riuscirà a trasmettere anche a voi come ha fatto con me, l'arte della pasticceria che è veramente un'arte meravigliosa. Ciao a tutti!